19 ragazzi d'Argentina, Taiwan, Stati Uniti, Messico, Canada, Australia, Giappone e anche da diversi paesi europei in Italia per lo scambio giovani del Rotary hanno visitato Cremona partendo dal monumento simbolo della città, il Torrazzo. Oggi abbiamo tutti i ragazzi, gli exchange che sono ospiti del nostro distretto qui a Cremona per conoscere le bellezze della nostra città. Quindi stiamo iniziando la salita del Torrazzo visitando il Museo Verticale con l'aiuto dell'architetto Fabio Bosio, nonché presidente del Rotary Club Cremona Po e con il gruppo di ragazzi che come sapete vengono da tutte le parti del mondo. I ragazzi che si esprimono tutti in un ottimo italiano si dicono entusiasti dell'esperienza. Io sono Stefania, vengo dall'Argentina, sto facendo uno scambio New Generation Service Exchange con il Rotary, cioè uno scambio professionale. Io faccio la giornalista e ho deciso di fare questa esperienza in Italia perché studiavo la lingua e mi piaceva combinare tutti e due, professioni e lingua. Incoraggio i ragazzi tra 19 e 30 anni che vogliono fare questa esperienza professionale, qualsiasi sia la professione, siano studenti, siano laureati. Potete scegliere paesi che volete conoscere e sviluppare un'esperienza là e una cosa che dovete fare se volete crescere personalmente e professionalmente. Sono molto contenta di stare qua in Cremona, faccio liceo musicale a stranivari perché suona il violino. Mi piace i amici, mi piace la famiglia, la cultura, andare per un aperitivo, qualcosa molto carina la Cremona. Questo è il momento in cui c'è qualche cambio perché gli australiani hanno finito il loro anno, partono e ne arrivano di nuovi. Nel prossimo weekend invece faremo l'assessment per i nuovi 32 outbound che partiranno la prossima estate. Quindi a settembre arriveranno 32 exchange nel nostro distretto.